Siamo nel comune di Forlì e siamo venuti a prestare soccorso alla popolazione. Stiamo raggiungendo casa per casa, soprattutto anziani e bambini, per portarli nella zona asciutta, dove l'acqua si è ritirata. Li carichiamo sul comune e li portiamo nella zona dove possono essere raggiunti dai soccorsi, ambulanze e quant'altro. No, qui la dovete prendere. Mettetegli una mano sotto le cosce, una dalla parte e una dall'altra. Non farla bagnare, signora, capito? Si metta a destra, metti la mano con. Dai, prendi la schiena e gamba. A posto, signora, non si preoccupi che stiamo ben... Non si vede lo snosco, non? Vieni, vieni. Eccolo. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Ok, in piedi. Ah, vieni, 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 vieni. Vediamo, vieni, vieni, vieni. Seduta là. Ok, come che si rimane? E poi la portiamo in discoteca. Facciamo fare un giro in discoteca, guarda. Per prendere anche il sole qua, signora. Hai visto? Adesso, io devo stare in macchina e fare il caffè. Dovai, facciamo pure il caffè oggi. Orsi, io devo stare in macchina. Lies, troppo. Ciao, io devo stare in macchina. Vieni, ci devo stare in macchina.